Infrastrutturare digitalmente l'intera Toscana, che cosa avete fatto in questo primo anno di legislatura e quali sono i vostri programmi per il futuro? Il punto di partenza purtroppo è la cifra della retratezza del nostro Paese rispetto allo sviluppo delle reti, alla completa copertura della connettività digitale nel nostro Paese. La Toscana non si trova nelle posizioni peggiori, ma purtroppo ha, come le altre, un gap da recuperare. Abbiamo anticipato già dagli scorsi anni un intervento diretto in 14 comuni con risorse regionali, ma siamo stati protagonisti insieme alla misura messa in campo dal governo tramite Infratel e Open Fiber, del soggetto attuatore, siamo in questi mesi, in questo primo anno, attenti controllori del rispetto del programma che Open Fiber ha messo in campo. Partiamo però con un ritardo consolidato di un anno e contiamo che i progetti un po' approssimati della fase iniziale possano concretizzarsi meglio in questo prossimo 2022. E in questi primi 12 mesi com'è andato il rapporto con gli enti locali della Toscana? Questa altra delega trova la sua particolare attuazione ancora accaduta dalle competenze digitali. Devo dire che l'innovazione ci mette in condizione di avvicinarci ai cittadini a una serie di servizi, penso a Speed, a Pago Pia, a tutti i servizi della pubblica amministrazione, gli enti locali stessi possono mettere a disposizione i nostri cittadini. Stiamo accompagnando letteralmente gli enti locali in un percorso di vicinanza, di strutturazione per rendere tutto ciò, come dire, una Toscana smart che possa dare opportunità a chiunque. Le questioni dell'immigrazione, della sicurezza, della tutela, della legalità, della lotta alla mafia, dell'aiuto alle vittime dell'usura, sono una serie di deleghe numerose per le quali l'impegno è stato costante. Credo che ci siano semplicemente due aspetti, se posso dire. Da una parte l'azione concreta è caliamo nel territorio e nei confronti delle istituzioni e dei cittadini. Dall'altra il racconto della Toscana. La Toscana non è una regione qualunque in tema di principi e le nostre idee, i nostri valori le abbiamo testimoniate anche con forza, soprattutto nelle sede delle conferenze delle regioni, dove siamo riconosciuti come portatori di una visione particolare e che in questi ultimi tempi trova fortunatamente maggior riscontro. Nei confronti di alcuni episodi particolari, come l'evacuazione delle popolazioni afghane, abbiamo chiesto che quei cittadini che hanno sostenuto e collaborato con i nostri militari avessero un adeguato riconoscimento e non finissero in un circuito più ampio, dove non era garantito il minimo dritto di cittadinanza e di possibilità di ricostruire rapidamente una loro vivibilità. Ma oltre all'immigrazione e la legalità, noi siamo proprietari della tenuta di Solvignana, torno questa mattina dall'ultimo sopralluogo, è un luogo nel quale si testimonia come le istituzioni possono restituire alle comunità i beni sottratti alla malavita, alle mafie e per essere protagonisti e non subire sul nostro territorio l'aggressione che è importante da parte della malavita organizzata.